Niente truppe, ma in qualche modo aiuteremo. Gli Stati Uniti temono da un lato l'escalation jihadista in Iraq, ma dall'altro non vogliono trovarsi coinvolti in un fronte che ha smesso di essere di guerra per Washington meno di tre anni fa. Qualunque azione dovessimo intraprendere per aiutare le forze di sicurezza irachene, deve essere accompagnata da un serio e sincero sforzo dei leader iracheni di accantonare le differenze confessionali, promuovere la stabilità e tenere in conto gli interessi legittimi di tutte le comunità irachene. Gli americani hanno lasciato il territorio iracheno a dicembre 2011 dopo nove anni di campagna militare, oltre 4.500 soldati statunitensi e 100.000 civili iracheni morti. Una ferita profonda dopo la rapida illusoria vittoria su Saddam Hussein, oggi la necessità di un intervento non può tramutarsi in un completo appoggio al governo. Penso che dobbiamo farlo come parte di un pacchetto più ampio, non deve essere visto semplicemente come un aiuto a Maliki, perché Maliki ha causato molti di questi problemi, ha governato sostanzialmente in modo molto settario, è stato molto duro con i sunniti, ha esercitato il suo potere arbitrariamente. A Washington non tira però quell'aria interventista che in molte altre occasioni ispirava dalla Casa Bianca. La nuova dottrina Obama prevede meno coinvolgimento degli Stati Uniti nel Medio Oriente e in ogni altra parte del mondo, è ciò che ha sottolineato ancora una volta, malgrado qualche forma di sostegno da parte americana, è il governo iracheno che se ne deve occupare.